Buongiorno e benvenuti a questa seconda giornata del convegno di Firenze. Devo dire che una sede più adeguata non si poteva trovare. Abbiamo saputo ieri che era il luogo in cui venivano definite le controverse commerciali. Qui dietro c'è piazzetta dei giudici e quindi direi che siamo proprio nel posto migliore che potevamo immaginare. Oggi parleremo delle nuove liquidazioni. Scusate un attimo perché pensavo di avere più tempo. Delle nuove liquidazioni nella prima sessione nel concordato preventivo e nella seconda sessione nel sovraindebitamento. Il tema verrà affrontato con riferimento alla disciplina attuale e poi con un sguardo sulle nuove norme del codice della crisi e dell'insolvenza. Quindi in questa prima sessione ci occuperemo delle liquidazioni nel concordato. Sia nel concordato liquidatorio che nel concordato in continuità azientale. E quindi parteremo da alcune questioni che si pongono nella disciplina attuale. Alcune delle quali risolte già in via interpretativa. E giungeremo a vedere che cosa prevede il codice della crisi e dell'insolvenza. Se queste questioni siano risolte, se siano risolte in parte, se ne vengano poste altre. Nella prima parte di questa sessione partiremo dalla norma principale sulle liquidazioni concordatarie che, come sappiamo, è l'articolo 182. C'è una analoga norma nel codice della crisi e dell'insolvenza che è l'articolo 119. Nella seconda parte di questa prima sessione parleremo dell'attuale 163 bis e del nuovo articolo del codice della crisi che è l'articolo 96. Infine, nella terza parte, affronteremo alcune questioni particolari ed in particolare la questione dell'atto di destinazione di cui è l'articolo 2645 ter del codice civile. Partendo quindi dal primo argomento e quindi dalle tematiche generali che si pongono nella liquidazione delle procedure concordatarie, partiamo quindi dall'articolo 182. Norma che, come sappiamo, era rimasta invariata a seguito della grande riforma del diritto fallimentare negli anni 2005-2006. Questa norma aveva continuato a prevedere che, nell'ipotesi di concordato concessione dei beni in cui non fosse previsto diversamente, il Tribunale avrebbe dovuto nominare un liquidatore, un comitato dei creditori e determinare le modalità di liquidazione. Nulla si diceva a proposito di quali dovessero essere queste modalità. Con il decreto correttivo del 2007, invece, vengono apportate alcune modifiche importanti ed in particolare viene estesa al liquidatore del concordato alcune norme dettate per il curatore, al comitato dei creditori e alcune norme dettate per il comitato dei creditori del fallimento. Ma soprattutto viene fatto un chiaro, un esplicito riferimento alle norme di quegli articoli da 105 a 108 ter dettate per la liquidazione fallimentare. In questa prima fase, però, questa norma incideva soltanto con riferimento alla liquidazione post-omologa. È soltanto nel 2015 che queste modalità vengono estese in via generalizzata a tutte le liquidazioni concordatarie, anche a quelle che iniziano prima della omologa. Quindi, fin dal deposito della domanda, occorre fare riferimento alle norme della liquidazione fallimentare. Questa modifica ha chiarito come anche prima dell'omologa si potesse iniziare la liquidazione, cosa di cui in passato si era dubitato perché, fin tanto che il procedimento è in fiori, iniziare l'esecuzione sembrava non consentito. Quindi, con questo decreto correttivo viene modificato in modo incisivo l'articolo 182. La norma, poi, del quinto comma è particolarmente ampia perché si esprime nel senso che a tutti i trasferimenti, a tutte le cessioni, devono applicarsi le norme di quell'articolo da 105 a 108 ter. Il 119 del Codice della crisi e dell'insolvenza ha un contenuto analogo all'articolo 182, anche se c'è una formulazione leggermente diversa. Andremo a vedere se questa diversa formulazione può assumere un significato oppure no. In tutte queste modifiche, però, una parte della norma non è stata mai intaccata ed è la parte in cui la norma prevede che se il concordato non dispone diversamente. È un inciso questo che evidenzia l'autonomia negoziale del debitore nell'ambito del concordato. Autonomia declamata, fin dalla prima norma sul concordato, che è l'articolo 160, secondo la quale la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi forma. Però, fin dalla modifica con il decreto correttivo del 2007, questo principio generale sembra entrato in crisi. Fin da allora si erano posti vari problemi interpretativi, perché la legge veniva ad individuare tre fonti per la determinazione delle modalità di liquidazione. La proposta, che poteva prevedere diversamente, la legge che stabiliva le regole della liquidazione fallimentare anche per quella concordataria e il tribunale che doveva determinare le modalità di liquidazione. Il problema era se la proposta potesse derogare alla legge oppure no e quali fossero i poteri integrativi del tribunale. Problema che è stato risolto in modo molto vario dalla giurisprudenza e anche la dottrina si è espressa in modo estremamente vario. Questo problema, come abbiamo detto, si è acuito nel 2015, perché si è esteso anche alla liquidazione post domanda e prima dell'omologa, e sembra perdurare nell'articolo 119 dove ancora è contenuto quest'inciso se il concordato non dispone diversamente. Pertanto la prima questione che andremo ad affrontare è quella del significato di quest'inciso sia nell'articolo 182 che nell'attuale, non ancora attuale, scusate, è un lapsus, nel futuro articolo 119 del codice della crisi e dell'insolvenza. La seconda questione è se questa norma, queste modalità di liquidazione si applichino soltanto con riferimento al concordato concessione dei beni o anche al concordato in continuità. Va ricordato che nel decreto del 2015 ha modificato la norma anche nella parte della rubrica, per cui da provvedimenti in caso di cessione di beni si prevede adesso la rubrica cessioni. Ora questo poteva già aprire qualche spiraglio sulla possibilità di applicare questa disciplina anche al concordato in continuità. Però questo dubbio forse può essere ancora più forte adesso nella nuova formulazione dell'articolo 119 perché l'articolo 119 non dice più se il concordato consiste nella cessione dei beni, che era evidentemente un chiaro riferimento al concordato concessione dei beni, ma usa una formula leggermente diversa se il concordato prevede la cessione dei beni. E allora questa sarà la seconda domanda che farò ai relatori. Nella seconda parte della sessione ci occuperemo dell'articolo 163 bis sulle offerte concorrenti che pone svariati problemi e del corrispondente articolo 96 del codice della crisi. Vedremo se l'articolo 96 risolve alcuni dei problemi che pone il 163 bis oppure se ne pone altri o se i problemi che ci sono adesso permangono nella nuova disciplina. Potremmo forse dire che una questione forse è senz'altro risolta perché la nuova formulazione cioè la formulazione dell'articolo 96 è diversa da quella del 163 bis laddove parla non di semplice offerta ma di offerta irrevocabile. Conosciamo il 163 bis che dice che la norma si applica quando il piano comprende un'offerta da parte di un soggetto già determinato che ha per oggetto il trasferimento la cessione eccetera di beni o di azienda. Nella norma dell'articolo 96 non si parla semplicemente di offerta ma si parla di offerta irrevocabile. Nell'attuale invece l'offerta del contraente dell'offerente originario diventava irrevocabile solo allorché si fosse conformata al decreto del tribunale e fossero state prestate le garanzie stabilite nel decreto. Nel nuovo articolo 96 l'offerta deve essere irrevocabile. È evidente che questo risolve una questione che si poteva porre e cioè la questione della sopravvenuta infattibilità del concordato che si fondava su quell'offerta una volta che questa offerta fosse revocata. E quindi probabilmente questa è un'opportuna modifica. L'altra innovazione senz'altro molto positiva è la semplificazione del procedimento. Abbiamo sperimentato come tribunali la fatica di fare decreti ex articolo 163 bis estremamente complessi che poi non servivano a niente perché nel mercato non trovavano alcun interesse. Opportunamente l'articolo 96 prevede una prima fase in cui il tribunale per il tramite del commissario deve semplicemente pubblicizzare l'offerta e invitare i potenziali offerenti a esprimere manifestazioni di interesse. Soltanto nell'ipotesi in cui vengano espresse manifestazioni di interesse il tribunale allora aprirà la procedura competitiva che è disciplinata in modo analogo a quello dell'articolo 163 bis. Ma è una modifica molto importante perché fare un decreto ex articolo 163 bis e in particolare assicurare la comparabilità tra le offerte è qualcosa di molto difficile soprattutto perché spesso l'offerta contenuta nel piano è un'offerta tagliata per un preciso soggetto. Per Mangone invece l'articolo 96 non modifica l'ambito di applicazione perché sempre quello dell'offerta che ha per oggetto il trasferimento di un bene o dell'azienda verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso ha per oggetto pure l'affitto e il contratto con finalità di trasferimento non immediato dei beni. Non modifica il ruolo del commissario giudiziale laddove per quanto riguarda quello di fornire le informazioni rilevanti anche questo un ruolo estremamente delicato anche si aggiunge quello di cui abbiamo parlato prima e cioè la fase della pubblicizzazione dell'offerta. Sia ai sensi del vecchio 163 bis che del futuro forse articolo 96 la società proponente deve modificare la proposta una volta secondo l'esito della gara e quindi anche qui ancora si pone il problema dei rimedi che si possono individuare nell'ipotesi in cui il debitore non modifichi la proposta e si pone ancora il problema se il debitore può modificare la proposta può invece che modificare la proposta revocarla si pone ancora la questione della sorte dell'offerta originaria e delle offerte concorrenti nell'ipotesi in cui il concordato non venga omologata questione che è particolarmente diciamo importante nel caso in cui vi sia stata una sostituzione di un contratto precedente noi sappiamo che il 163 bis si applica anche ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento anche non immediato di beni e quindi è ben possibile che a seguito della gara ci sia stata la sostituzione del contraente originario con l'aggiudicatario a questo punto si pone il problema di quali siano le conseguenze nel caso di mancata omologazione la nuova disciplina si applica anche nella fase del concordato con riserva al pari dell'articolo 163 bis ma anche qui la formulazione è leggermente diversa perché l'articolo 163 bis ci dice che la norma si applica agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161 settimo com il che significa che si applica agli atti di straordinaria amministrazione che abbiano il contenuto previsto dall'articolo 163 bis questo significa innanzitutto che non si applica agli atti di ordinaria amministrazione e in questo senso si può ricordare una pronuncia del tribunale di Livorno che ha escluso l'applicabilità della disciplina sulle offerte concorrenti nel caso in cui l'attività di vendita fosse attività ordinaria dell'impresa e questo significa anche che l'articolo 163 bis entra in gioco soltanto nel caso in cui sia chiesta l'autorizzazione a compimento di uno di questi atti con la conseguenza a mio avviso che nel caso in cui il contratto facciamo il caso classico il contratto di affitto sia stato già stipulato prima della domanda di concordato il tribunale non deve immediatamente aprire la procedura esecutiva nella fase del concordato con riserva perché qui non c'è un atto da autorizzare dovrà invece aprirla una volta depositata la proposta se la proposta contiene e si fonda su questo contratto di affitto da questo punto di vista però invece l'articolo 96 ha una formulazione un po' diversa perché invece di fare riferimento agli atti da autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione da autorizzare dice semplicemente che la disciplina dell'articolo 96 si applica anche nei casi previsti dall'articolo 48 l'articolo 48 è la norma che disciplina l'accesso alle procedure negoziali quindi al concordato preventivo e all'accordo di ristrutturazione dei debiti e la fase in cui può essere concesso un termine analogamente a quello che avviene nell'articolo 161 sesto comma questa diversa formulazione porta forse a chiedersi se quella interpretazione che io ho appena dato dell'articolo 163 bis a proposito degli atti da autorizzare invece debba essere modificata con la nuova norma infine tratteremo di alcune questioni particolari in particolare degli atti di destinazione che cosa hanno a che fare con le nuove liquidazioni abbiamo sempre cercato di avere un appiglio con le novità l'atto di destinazione di per sé è una pratica che si è sviluppata nel corso degli anni sappiamo che ha avuto una certa applicazione concreta però il diciamo il legame con le nuove liquidazioni perché di queste oggi dobbiamo parlare è forse questo nel senso che possiamo individuare nel sistema forse un favor per l'intervento del terzo lo vediamo nella legge sul sovraindebitamento di cui parleremo fra poco nella seconda sessione in particolare l'articolo che prevede la possibilità dell'intervento del terzo nel caso in cui il sovraindebitato non abbia risorse sufficienti per predisporre il piano del consumatore o la proposta di accordo ma lo vediamo anche nel nuovo codice della crisi dell'insolvenza laddove si ritiene giustificato il concordato liquidatorio solo se vi sia apporto ed un apporto consistente in determinate percentuali di finanza esterna e allora probabilmente questo strumento abbastanza discusso 2645 ter avrà una possibilità ampia di applicazione è uno strumento però che pone alcuni problemi a prescindere poi proprio dalla stessa applicabilità alle procedure di concordato sicuramente pone un problema di conflitto tra creditori e ovviamente tra i creditori del personale del terzo e i creditori del debitore inconcordato sappiamo che ovviamente ai creditori del terzo non si applica il divieto delle azioni esecutive e cautelari di quell'articolo 168 il problema di tutela di questi creditori e quindi gli strumenti a loro disposizione la revocatoria e anche il nuovo articolo 2929 bis del codice civile ma può essere anche un mezzo che può creare pregiudizio agli stessi creditori concordatari pensiamo all'ipotesi del terzo che abbia un particolare interesse al buon esito del concordato perché ne trae vantaggio e l'ipotesi potrebbe essere quella del socio illimitatamente responsabile che potrebbe avere interesse a destinare soltanto alcuni propri beni all'adempimento del concordato godendo così degli effetti esdebitativi dell'articolo 184 che come sappiamo si estendono ai soci illimitatamente responsabili e evitando il fallimento che invece lo sottoporrebbe allo spossessamento di tutti i suoi beni qui probabilmente però la tutela dei creditori è già all'interno della stessa procedura concordataria perché è evidente che qualora uno dei creditori contesti uno comunque nella classe dissenziente insomma secondo i presupposti attuali contesti la convenienza del concordato è chiaro che il tribunale non potrà omologarlo utilizzando lo strumento del cramdown perché nel fallimento il creditore otterrebbe un vantaggio maggiore ma ci sono anche altri soggetti che potrebbero essere avere un interesse al buon esito della procedura per esempio il coloro che hanno delle responsabilità all'interno dell'impresa gli amministratori o l'organo di controllo i quali pur non essendo direttamente responsabili però potrebbero essere chiamati a rispondere e nel concordato benché l'azione di responsabilità sappiamo che non è preclusa tuttavia nel fallimento è sicuramente più facilmente esperibile quindi questo è lo schema che seguiremo il filo conduttore e ne parleremo con i nostri relatori con Giovanna Bilò che è il giudice delegato di Ancona e con l'avvocato Trentini che è avvocato a Verona quindi parleremo innanzitutto dalla parte più generale e quindi dall'articolo 182 e dall'articolo 119 del codice della crisi in particolare dal problema che abbiamo posto prima e cioè dal significato che ha sia nell'attuale 182 che nell'articolo 119 del codice della crisi l'inciso se il concordato non dispone diversamente quali siano cioè i limiti dell'autonomia negoziale del debitore nel determinare le modalità di liquidazione e se può possono derogare alla legge oppure no quale sia il significato del richiamo agli articoli 105 108 ter in quanto compatibili nel senso cioè che richiamo cioè clausola di salvaguardia che c'è anche nell'attuale 119 dove le norme della liquidazione giudiziale ex fallimento sono richiamate in via generale non c'è uno specifico riferimento agli articoli compatibilità significa compatibilità rispetto alla procedura di concordato o rispetto alla proposta che quindi può prevedere diversamente e ancora può la proposta prevedere modalità diverse da quelle previste dalla legge fallimentare o dal codice della crisi per le vendite post domanda e se la proposta può prevedere modalità liquidazioni diverse da quelle previste dalla legge nella fase anti-omologa quindi ammettiamo che sia possibile se la proposta è stata depositata ma non è stata ancora approvata e quindi omologata dal tribunale il tribunale è già vincolato in questa fase alle modalità stabilite dalla proposta e ancora le modalità di liquidazione previste nella proposta una volta che sono state votate dai creditori possono essere modificate dal tribunale in sede di omologa ho letto ora un precedente recente della Cassazione ora il numero non so se lo ritrovo che eccolo qua Cassazione 10 agosto 2017 numero 19.925 che di fronte ad un ricorso di un debitore che si lamentava che il tribunale avesse nominato il liquidatore nel concordato in continuità ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che si trattasse di attività in sostanza che non incideva sull'essenza della proposta e si trattava semplicemente di attività amministrativa insomma di gestione del concordato e in questo pronuncia la corte ha richiamato una precedente pronuncia in questo senso del 13 settembre 2016 numero 17.949 pronunce che però si pongono un po' in contrasto con altre affermazioni fatte dalla stessa corte nel 2011 laddove per esempio la corte aveva affermato che il tribunale potesse nominare un liquidatore non potesse nominare un liquidatore se questo era già stato indicato nella proposta a meno che questo liquidatore non avesse i requisiti di quell'articolo 28 nonché un'altra pronuncia ancora più diciamo in senso più ampio del 2011 1345 che aveva espressamente affermato che il tribunale non potesse modificare le modalità indicate nella proposta e allora ci domandiamo in sede esecutiva anche nel caso di sopravvenienze può il tribunale o il giudice delegato integrare il decreto di omologazione tutte queste domande io vorrei ascoltare appunto la collega Giovanna Bilò allora buongiorno a tutti tutte queste domande hanno trovato nella giurisprudenza risposte anche di legittimità come ci ha detto la dottoressa Legnaioli risposte contraddittorie risposte contraddittorie che derivano dall'ambiguità dell'articolo 182 primo comma ambiguità che anche questo la dottoressa Legnaioli l'ha già detto non pare superata dall'articolo 119 primo comma che replica questa norma nel codice della crisi e dell'insolvenza ho cercato di trovare il bandolo della matassa attraverso una ricostruzione storica che mi è sembrata necessaria perché il primo comma dell'articolo 182 ha subito una serie di aggiunte ma nella parte che noi esaminiamo adesso e cioè se il concordato consiste nella cessione di beni e non dispone diversamente il tribunale nomina è norma che ci viene dal 1942 quando l'articolo 160 prevedeva due tipi di concordato il concordato con garanzia e il concordato con cessione dei beni l'articolo 160 comma secondo numero 2 ora il concordato con cessione dei beni a parte la specificazione che ci interesserà dopo per altre questioni la specificazione per cui i beni devono essere tutti era interpretato dalla giurisprudenza prevalente nel senso di legittimità nel senso di ritenere che soltanto se il creditore nulla avesse disposto o non avesse disposto diversamente andavamo a recuperare la disciplina civilistica dell'accessio bonorum e quindi si doveva intendere l'applicazione degli articoli 1977 e seguenti conseguentemente una sorta di mandato irrevocabile all'incasso che però comportava una cessione prosolvendo per cui l'eventuale eccedenza rispetto alle percentuali garantite rimanevano in capo ai creditori non dovranno essere restituiti a debitori ma che non escludeva che per esempio ci fosse pensata la cessione dei beni come un adazio insolutum quindi trasferisco tutti i beni la proprietà dei beni non concedo un mandato irrevocabile all'incasso ai creditori oppure una ipotesi di cessione prosoluto nel senso che vi do solo le percentuali che vi ho indicato questo per dire che cosa per dire che quando il secondo a mio avviso quando il 182 dice se il concordato consiste nella cessione di beni non dispone diversamente nel 1942 il legislatore pensava al 160 secondo comma numero 2 che diceva caro imprenditore sei nella fase del concordato e quindi in realtà puoi prevedere quello che ti pare quello che ti pare ovviamente nei limiti poi delle normative vincolanti del concordato quali sono il problema allora qual è quali sono i limiti a questa libertà a questa autonomia negoziale riconosciuta all'imprenditore e allora il primo limite su cui ci interroghiamo è necessaria la nomina del liquidatore se il concordato non dispone diversamente cioè a me verrebbe da dire io posso prevedere che posso riservarmi la cessione di beni posso prevederci io imprenditore proponente il concordato senza necessità di procedere alla nomina del liquidatore questo nella lettura originaria questa lettura originaria va tenuta ferma anche con le riforme del 2005 e 2006 che questa norma non la intaccano se non nel senso in realtà di ampliare le previsioni relative ai requisiti del liquidatore e ampliano però il 160 nella definizione del concordato del concordato concessione dei beni nel senso che trasferiscono la previsione del secondo comma numero 2 nel 161 lettera che mantiene nella descrizione del contenuto del concordato la nozione attuale la lettera attuale quindi il concordato può consistere nella ristrutturazione dei debiti soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma quindi ampliamento ulteriore dell'autonomia negoziale del proponente a me pare nella definizione di quelle che sono le modalità di liquidazione dei beni quindi a me pare anche che se il creditore decide di non nominare il liquidatore possa ben prescindere dalla nomina che non è quello che sembra dire ultimamente la Cassazione sono ben consapevole siamo ancora però nella fase pre-correttivo 169 2007 nella mia ricostruzione nella fase pre-decreto correttivo 169 2007 avevamo un concordato che intanto passava in quanto aveva avuto il voto favorevole di tutti i creditori che a me o meglio il voto favorevole della maggioranza dei creditori scusatemi che a me pare un presidio importante alla tutela dell'interesse appunto del certo creditorio non è sembrato però sufficientemente importante per la giurisprudenza nella misura in cui ha ritenuto sì tu imprenditore ti puoi riservare la proprietà dei beni puoi pensarci tu a venderli ma a quel punto però il concordato è in garanzia nel senso che tu le percentuali che indichi come percentuali che ti impegni a riconoscere ai creditori sono percentuali che ti vincolano per cui se tu non le soddisfi non abbiamo soltanto un parametro che mi aiuta ad individuare l'inadempimento di non scarsa importanza che mi giustifica la risoluzione abbiamo tu cur per il fatto che non è 20% ma è 19 nel momento in cui il superamento della percentuale del 20% c'è normativamente nel senso che viene abrogato è appunto il semplice scostamento dalla percentuale indicata comporta che tu sei inadempiente e giustifica quindi la risoluzione questo a che scopo allo scopo evidentemente di tutelare ancora di più i creditori a fronte di tentativi di utilizzare il concordato preventivo essenzialmente allo scopo di evitare il fallimento per poi non fare in concreto niente questo è il problema con cui si trovano ad avere a che fare i giudici dobbiamo cercare allora a fronte soprattutto nel momento in cui poi del 2012 ci troviamo a fonte di creditori che non votano e di proposte che passano in base al silenzio assenso dobbiamo cercare di tutelare il certo creditorio e come lo facciamo lo facciamo prevedendo che se tu creditore ti riservi l'attività liquidatoria allora però poi quello che dici che puoi ricavare dai tuoi beni me lo devi dare per forza altrimenti risoluzione con tutti i problemi che conseguono poi al fatto che la risoluzione è soggetta a termine breve al fatto che i creditori legittimati spesso non fanno istanza eccetera arriviamo al decreto correttivo del 2007 il decreto correttivo del 2007 individua specifici requisiti del liquidatore e introduce un comma 5 che richiama le norme degli articoli 105-108 ter sulla liquidazione nell'ambito del fallimento ulteriore questione allora se riteniamo che devo nominare per forza il liquidatore il liquidatore deve avere requisiti prescritti dal nuovo 182 oppure posso prescinderne e anche qui a fronte di chi ritiene riconoscendo una facoltà addirittura sostitutiva al tribunale che tu imprenditore puoi nominare puoi sceglierti il liquidatore ma deve avere quei requisiti che la legge prescrive rimandando ai requisiti del curatore altra te anche rilevando che non avrebbe senso una norma che vincola il tribunale quando nomina il liquidatore e lo sceglie tra professionisti e poi non vincola invece l'imprenditore quando fa quello che vuole e individua quindi persone a lui vicine eventualmente se non provvede lui espressamente ovviamente c'è la tesi opposta che dice no il liquidatore ammesso che tu lo debba nominare per forza lo puoi scegliere in realtà tra persone che fanno parte che sono a te vicine perché magari sono persone che fanno parte del management dell'impresa che hanno delle competenze particolari proprio per il fatto di conoscere quell'impresa e che quindi si potrebbe sostenere sono in grado di arrivare a dei risultati cui un soggetto terzo che deve entrare nella gestione nell'azienda deve conoscere eccetera non potrebbe tutelare quindi in realtà questo potere riconosciuto al creditore di distaccarsi da requisiti previsti dal 182 primo comma per il liquidatore è un potere che può essere funzionale all'interesse dei creditori quindi mi sembra di capire che occorre fare una distinzione tra il concordato liquidatorio vero e proprio che è il concordato in cui devono valere tutte le regole della liquidazione dell'articolo 182 qual è il concordato? è quello in cui c'è una separazione tra il debitore e il suo patrimonio nel senso che questo patrimonio viene attribuito in gestione per la liquidazione ad un terzo nominato dal tribunale in questo caso il liquidatore deve avere i requisiti dell'articolo 28 può essere indicato nella proposta e in questo caso se ha i requisiti il tribunale non può nominare uno diverso anche perché i creditori l'hanno votato hanno votato la proposta che prevedeva quella nomina mentre è consentito anche mentre diverso da questo tipo di concordato che è un concordato che dà diciamo dei vantaggi perché è quello in cui la percentuale non è obbligatoria il debitore si impegna cedendo tutti i suoi beni e a soddisfare i creditori con quello che risulterà dalla liquidazione invece se è il debitore che procede direttamente oppure è lui tramite soggetti incaricati in questo caso però non si applica quest'ultimo vantaggio siamo al di fuori del concordato liquidatore era questo 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 è la lettura è la lettura integrata appunto dal fatto in questo caso siamo nel concordato con garanzia rispetto alle percentuali ok il quinto comma dell'articolo 182 perché il problema appunto non si limita soltanto al se serva oppure no un liquidatore la questione è se al momento della liquidazione il proponente sia vincolato dall'applicazione delle norme sulla liquidazione fallimentare ora secondo questa distinzione ben si potrebbe dire che l'ambito di applicazione del 182 quinto comma si determina in successione sulla base del primo comma conseguentemente le norme della liquidazione fallimentare vincolano i liquidatori e i concordati in cui quindi l'accessione dei beni ai creditori è effettiva e non vincolerebbero invece il proponente che procede autonomamente a questa liquidazione questo per coerenza per coerenza di sistema ora io non sono molto d'accordo con questo tipo di ricostruzione nel senso che a mio avviso la previsione se il concordato non dispone diversamente consente all'imprenditore di scegliere come addivenire la liquidazione dei beni con la stessa ampiezza di autonomia che gli era stata riconosciuta nel 1942 quindi dazio insolutum oppure no ma non trovo un appiglio normativo al fatto che se non faccio la dazio insolutum e quindi se mi riservo la gestione dei beni allora il concordato è in garanzia cioè questione questa che poi ha posto quello ulteriore di distinguere rispetto al 160 ultimo comma quell'obbligo introdotto nel 2015 di assicurare il 20% ai creditori chirografari nel concordato liquidatorio e che si distingue assicurare che si distinguerebbe dall'espressione garantire per cui nel concordato dell'imprenditore che si riserva i beni deve garantire lì assicurare significa tendenziale raggiungimento del 20% per cui se sono al 19 forse non si risolve allora a me sembra che l'imprenditore possa senz'altro appunto disporre diversamente quindi anche non prevedere di rimettere la liquidazione a un liquidatore o nominare un liquidatore ma è un'opinione personale che non abbia i requisiti del curatore fallimentare perché questo però perché l'articolo 182 comma quinto soprattutto per come riscritto all'esito della riforma del 2015 ha assunto una portata generalizzante e quindi a mio avviso il limite e l'autonomia dispositiva dell'imprenditore nel concordato liquidatorio la dà il quinto comma il quinto comma è quindi l'applicazione degli articoli dal 105 al 108 ter quindi che succede facciamo sempre le vendite competitive le facciamo nei limiti a mio avviso che indicava ieri il professor Bastia quando diceva che abbiamo dei principi che ricaviamo dal 107 primo comma e che sono la necessità di un sistema incrementale di offerte trasparenza pubblicità apertura al pubblico il 107 primo comma ci impone di garantire questo nelle liquidazioni fallimentari a mio avviso lo impone anche al liquidatore al debitore nell'ambito del concordato liquidatorio con il che non ho bisogno di ricorrere al concordato con garanzia perché i creditori sono tutelati a mio avviso dalla competitività la competitività trova appunto nei limiti nel nocciolo duro che il 107 primo comma e allora in questo modo si chiarisce anche la nozione di in quanto compatibili in quanto compatibili rispetto al concordato rispetto alla proposta o rispetto alle leggi alle norme rispetto alle norme in realtà ci potevamo arrivare a mio avviso già con il principio di specialità nel senso se non ho una norma che riguarda il concordato che mi dispone qualcosa per interpretazione estensiva o per analogia sarei andata comunque alle norme sul fallimento e le avrei applicate in quanto compatibili per l'articolo 12 delle disposizioni preliminari per cui in quanto compatibili a mio avviso è in quanto compatibili con la proposta proposta però che non può allontanarsi oltre il limite del 107 primo comma quindi in sostanza la tesi è che questo potere di disporre diversamente secondo la relatrice non può essere trova un limite e cioè la competitività voleva dire qualcosa l'avvocato Trentini sì grazie innanzitutto buongiorno ma allora cerco di dare una lettura che forse alla fine arriva alle stesse conclusioni ma insomma per via per via diversa allora in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ma credo che alla fine questo principio possa valere anche per il concordato per quello che dirò si osserva in dottrina si è osservato in dottrina molto bene che non vi sono limiti al contenuto di questi accordi che non siano la fantasia delle parti e la legge e quindi gli accordi che possono essere stipulati possono essere della più grande ampiezza il limite è soltanto che non si possono evidentemente violare norme di legge quindi concludere accordi in violazione di norme imperativo oppure in contrasto con quella che è la previsione di legge circa il procedimento allora a mio avviso questa distinzione che viene reiterata fra concordato concessione dei beni e concordato con garanzia dicendosi là dove è prevista la nomina di un liquidatore in questo caso appunto parliamo di concordato concessione dei beni mentre là dove questo non si è previsto in realtà conservando il debitore la disponibilità dei suoi beni sia pure sotto il vincolo e poi la facoltà anche di vendere in questo caso non siamo in presenza di un concordato concessione ma è un concordato con garanzia prendo atto che è un'interpretazione diffusa sostenuta anche da Locascio sostenuta anche recentemente dalla Croce ma a mio avviso risente ancora del modello del 1942 il concordato o è per garanzia o è per cessione dei beni e mi permetto di dire che questa è una visione che dovrei considerare del tutto superata il concordato è nel modo e il concordato si fa nel modo più vario possibile non si può prevedere che si vendano stupefacenti per dare esecuzione al piano concordatario non si possono commettere reati non si possono prevedere interessi a tassi usurari eccetera eccetera ma fermo questo la proposta concordataria il piano concordatario possono prevedere le cose più diverse possibili perché nel caso in cui il debitore conservi la proprietà che comunque conserva anche nella cessione dei beni perché fino a che non sono venduti sono comunque in proprietà del debitore perché nel caso in cui il debitore si riservi nel piano nella proposta di vendere gli stessi i beni questo debba interpretarsi nel senso che garantisce un certo esito a me scusatemi ma non ho capito da che cosa si ricavi premesso che lo sostengono autorevolissimi studiosi e lo dice anche la giudisprudenza allora che cosa invece si deve riconoscere e questo è pacifico beh si deve riconoscere per esempio l'ultimo coma dell'articolo 160 se non è un concordato con continuità e quindi sono previste cessione dei beni quindi anche nel caso di liquidazione bisogna che il debitore assicuri che ai creditori chilografari arriva il 20% quindi se il concordato non dispone diversamente vuol dire che fermo restando questo obbligo fermo restando questo obbligo peraltro non attiene alle modalità di esecuzione del piano il principio è che se non si dice come si deve fare la liquidazione allora in questo caso lo si deve fare con la nomina di un liquidatore non entro nella questione se può essere indicato se vincolante secondo me questo è uno dei casi dove appunto non si può violare una precisa disposizione di legge lo dice anche una sentenza di Milano il potere di nomina del liquidatore è spetta al tribunale resta in petto al tribunale quindi il tribunale non può essere costretto a nominare un liquidatore che pure abbia le caratteristiche e i requisiti previsti dalla legge detto questa che è una questione secondaria torniamo al punto quindi secondo me nel caso in cui siano previste determinate modalità di liquidazione queste vanno rispettate e questo significa se il concordato non dispone diversamente quanto alla previsione circa l'applicabilità del quinto comma dell'articolo 182 e quindi il rispetto delle norme queste sono norme che giustamente disegnano dei limiti a quello che è il contenuto del piano della proposta ma ci sono le norme sulle offerte concorrenti cioè se nella proposta e nel piano è prevista che la vendita venga eseguita a favore di un determinato soggetto bene le norme in tema di offerte concorrenti consentono il perfetto rispetto di queste previsioni queste previsioni che io dico sempre si risolvono alla fine in sei parole previa stima pubblicità adeguata procedure competitive la proposta prevede che il bene vada a un determinato soggetto i creditori non sono vincolati nella misura in cui il tribunale deve fare le procedure competitive e quindi attraverso questa via queste regole sono comunque rispettate ecco già da le risposte dei due relatori si capisce che è un tema molto controverso perché hanno dato risposte insomma opinioni un po' diverse mi sembra di capire che secondo questa interpretazione cioè secondo quanto ritenuto l'avvocato Trentine il il debitore non è vincolato se non nei limiti in cui si rientri e questo vale per tutti i tipi di concordato nel perimetro dell'applicazione del 163 bis in questo caso si occorre applicare la norma ma negli altri casi l'inciso se il concordato non dispone diversamente mantiene ancora tutto il suo significato e il debitore non è vincolato alle norme sulla liquidazione fallimentare è questo vero? assolutamente finché non cambia il 160 a differenza di quello che invece è stato anche sostenuto questa norma non ha il valore di clausola generale di chiusura che si appica in tutti i casi comunque che non rientrano in altre per esempio nel 163 bis se il debitore vuole la può derogare e quindi abbiamo due opinioni diverse e questo appunto è ancora appunto mette in evidenza quanto sia difficile interpretare questa norma e quanto sarà ancora difficile interpretare la nuova del 119 ma mi domando se per caso in fase esecutiva abbiamo delle sopravvenienze cosa può il tribunale integrare il decreto di omologazione? Allora in realtà la questione a monte è se il concordato riguarda soltanto i beni che il proponente ha a disposizione nel momento in cui deposita la domanda o se in realtà leggendole con la lente del 2740 si estende a tutti i beni presenti e futuri ora la giurisprudenza di legittimità dice sempre con riferimento alla possibilità però che l'imprenditore si riservi la titolarità di beni e quindi non li ponga a disposizione dell'attività liquidatoria e quindi dei creditori che questo proprio in ragione del 2740 non è possibile e quindi tutto quello che hai lo dai ai creditori a meno che non siamo nell'ambito di un concordato in continuità e ci sono beni che ti servono per la continuazione quindi per continuare l'esercizio dell'impresa da qui però dovrebbe discendere che se sono tutti i beni sia quelli presenti che quelli futuri allora anche quelle sopravvenienze dovrebbero rientrare nell'ambito del concordato l'articolo 185 pur a seguito delle riforme del 2015 è intervenuto ad ampliare i poteri del commissario giudiziale e poi per suo tramite del liquidatore che eventualmente si sostituisce agli amministratori quando si tratti di dare esecuzione al concordato e l'imprenditore sia un po' riottoso si è osservato però che per come è strutturata la norma queste disposizioni andrebbero a rilevare soltanto nel caso di proposta concorrente che sia prevalza rispetto a quella del debitore che vede evidentemente il debitore poco disposto a dargli esecuzione non sembrerebbe ma immagino che un'operazione di interpretazione estensiva in questo caso si possa fare che tali poteri siano espressamente e direttamente attribuiti al commissario giudiziale liquidato perdono al commissario giudiziale ovviamente in forza dei poteri di controllo generali che ha ma al liquidatore con riferimento al caso in cui non si è stata approvata una proposta concorrente ma quella originaria del creditore il punto però è un altro è che se anche attraverso questi poteri potrebbe il liquidatore intervenire rispetto a beni sopravvenuti ma questi beni sono e restano nella titolarità del debitore e quindi senza un atto di autonomia negoziale che estenda il concordato a questi beni a realtà a mio avviso non è possibile ma non è possibile basta il 41 la Costituzione a dire che non è possibile estendere l'operatività del concordato a questi beni perché c'è stato comunque un accordo quell'accordo è stato omologato è stato approvato dai creditori è stato omologato dal Tribunale non prevede modalità di liquidazione degli ulteriori beni non mi sembra proprio in considerazione dell'ampiezza dei poteri derogatori che abbiamo che si riconoscono al debitore addirittura l'avvocato Trentini li riconosce in maniera più ampia di me quindi insomma a fronte di questo non c'è un'attività del il decreto di omologa dovrebbe prevedere come eventualmente liquidare eventuali sopravvenienze solo ipotetiche allora sotto questa possibilità non è ex ante non è esercitabile evidentemente ex post ma il concordato si chiude con l'omologa e quindi come lo chiamo in ballo salvo che non voglia prevedere questo mi viene in mente non voglia prevedere in realtà nella proposta ma necessariamente nella proposta una modalità procedurale di intervento nel caso in cui dovessero esserci delle sopravvenienze e quindi che ne so eventualmente ritorniamo dal giudice delegato e gli diamo una competenza che non c'è che non ha normativamente oppure gli diamo facciamo un accordo a parte con i creditori ovvio che sento qui dire non esiste un creditore che si impegna a dare a prevedere questo nella proposta però esistono sempre proposte nelle quali perlomeno io le vedo nelle quali mi si dice ovviamente eventuali sopravvenienze saranno messe a disposizione dei creditori e queste proposte rimangono di fatto inattuabili a mio avviso se non c'è una specificazione nella proposta che non ci può essere a meno che non si possa prevedere ex ante e quindi c'è in realtà un'aspettativa quantomeno di acquisizione di un bene non sono secondo me appunto attuabili quindi le sopravvenienze restano fuori da qui l'ulteriore tesi per cui in realtà il concordato darebbe luogo ad una sorta di segregazione patrimoniale e quindi appunto limitazione di responsabilità del debitore tesi a fronte della quale si potrebbe però sostenere perché se così non è il punto è questo se così non è e se il bene resta fuori i creditori possono aggredirlo il nuovo bene in via individuale con azione esecutiva autonoma ora si tende a dire di no si dice di no ma si dice di no in forza di quell'accordo con la maggioranza che vincola anche la minoranza che poi induce a dire la dottrina qui c'è un effetto innovativo prodotto dal concordato l'effetto innovativo lo possiamo discutere soprattutto alla segua delle ultime pronunce della Cassazione nel 2017 in materia di pronuncia di fallimento senza passare per la risoluzione quando sono decorsi i termini che ci sia però quantomeno una temporanea limitazione di debito se non di responsabilità che preclude quindi al creditore di aggredire individualmente le sopravvenienze io sarei di questo avviso insomma dobbiamo andare un pochino più veloci e quindi quindi mi dovrò un pochino sollecitare allora la questione che vorrei affrontare adesso è se l'articolo 182 e l'articolo 119 del codice della crisi si applicano anche al concordato in continuità nel caso in cui sia prevista la liquidazione di alcuni beni cosa che è espressamente consentita dall'attuale 186 bis ma che è prevista anche nell'articolo 89 del codice della crisi e ancora quindi applicabilità o meno questo come dicevo alla luce anche della diversa formulazione della norma che non parla più di concordato che consiste nella cessione dei beni ma di concordato che prevede la cessione dei beni quindi anche nel concordato in continuità si applicano queste regole dell'articolo 182 oppure oppure no e se si applicano anche nel caso in cui il ricavato dei beni sia destinato non direttamente al soddisfacimento dei creditori ma alla prosecuzione dell'attività di imprese però bisogna essere un po' sintetici adesso prego allora sappiamo che la diatriba attuale sulla applicabilità del 182 al concordato con continuità che però preveda anche la cessione di beni ruota attorno al contrasto tra il criterio della prevalenza o criterio misto della combinazione per individuare la disciplina applicabile del cosiddetto concordato misto perché si dice abbiamo il concordato in continuità il concordato liquidatorio quello in continuità che però prevede la cessione di beni non funzionali evenienza pure prevista dal 186 bis primo comma è un concordato misto e allora come per i contratti atipici che nel diritto civile per l'individuazione della disciplina applicabile quando derivano dalla combinazione di diversi tipi negoziali tipici o individuiamo applichiamo la disciplina del contratto prevalente o applichiamo per le parti rilevanti la disciplina di ciascuno la stessa alternativa è stata esposta e viene esposta con riferimento al concordato misto per cui secondo la teoria che però tende a prevalere e che poi è stata quella recepita dal codice della crisi e dell'insolvenza il criterio della prevalenza dovrebbe essere inteso in senso funzionale dunque se la maggior parte dell'attivo si ricava dalla continuazione dell'attività attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori si ricava dalla continuazione dell'attività allora il concordato è in continuità e si applicano quindi le norme sul concordo in continuità diversamente siamo nell'ambito del concordato liquidatorio la questione rileva per la disciplina degli appalti pubblici la questione rileva per il famoso limite del 20% che opera soltanto appunto nei concordati liquidatori la questione rileva anche sulle modalità di liquidazione dei beni nell'ipotesi in cui riteniamo che il concordato in ragione di quel criterio della prevalenza sia un concordato in continuità e conseguentemente non dovremmo in teoria applicare l'articolo 182 ora a me pare che già nel che già nel 2012 ma poi soprattutto con la riforma del 2015 che ha modificato la rubrica del 182 definendo le accessioni ha ampliato moltissimo l'ambito di applicazione del quinto comma del 182 la norma che richiama le vendite fallimentari dicendo che si applicano alle agli nazioni vendita trasferimenti i legalmenti possino essere dopo la proposizione della domanda io penso che non ci sia scampo per dire che anche le cessioni nell'ambito che affiancano il concordato in continuità siano oggetto di disciplina secondo le modalità del 182 e quindi secondo le modalità della vendita fallimentare salvo che il proponente non abbia disposto diversamente quello che voglio dire all'integrazione di prima è che dunque le questioni che c'eravamo posti prima con riferimento al 182 e anche 185 si pongono identiche per il 119 del codice della crisi e dell'insolvenza nel senso che la norma è rimasta sotto questo profilo pressoché invariata salvo appunto come diceva la collega confermare questa apertura questo amplimento di applicazione dell'articolo 182 allorché ha sostituito la previsione del primo comma solo dal codice della crisi modificato nella misura in cui non dispone più se il concordato consiste nella cessione di beni ma se il concordato prevede la cessione di beni significativa mi sembra anche nell'ambito del 119 quinto comma la modifica del richiamo alle norme sulle vendite nella liquidazione giudiziale perché non c'è un richiamo fisso a delle norme ma il richiamo è appunto alle norme che disciplinano la liquidazione giudiziale quindi innanzitutto è un rinvio mobile nel senso che siamo tranquilli che se cambiano le norme le modifiche dovranno essere recepite anche in sede concordataria ma è un rinvio che non mi vincola soltanto alle disposizioni della sezione seconda dedicata appunto alla vendita in ambito di liquidazione giudiziale questione questa rilevante perché per esempio le norme del 104 bis che oggi sono fuori in materia di affitto d'azienda le possiamo recuperare in virtù di questo richiamo generico perché stanno nelle disposizioni preliminari ma tra le norme dedicate appunto alla liquidazione nell'ambito del codice della crisi dell'insolvenza bene allora adesso passiamo alla seconda parte della sessione che riguarda la disciplina delle offerte concorrenti nell'attuale articolo 163 bis individuando un po' le questioni che si pongono e nell'articolo del codice della crisi corrispondente che è il 96 come ho anticipato all'inizio c'è innanzitutto una importante modifica nel senso che mentre nel 163 bis si parla semplicemente di offerta da parte di un soggetto già determinato eccetera eccetera nell'articolo 96 del codice della crisi si parla di offerta irrevocabile e quindi vorrei chiedere qual è il significato di questa modifica e anche se l'articolo 96 entra in gioco nel caso in cui la proposta preveda sì un'offerta ma non irrevocabile come dice la norma dunque allora perché quali sia il significato perché è stata modificata la norma forse bisognerebbe chiederlo a chi l'ha scritta e quindi insomma faccio come dire dichiarazione uno se lo può immaginare dichiarazione di modestia ecco credo che una possibile spiegazione però l'azzardo consista in quello che poco fa lei affermava prevedere che l'offerta sia irrevocabile significa così assicurare una maggiore requisito una maggiore fattibilità della proposta concordataria perché se la proposta è irrevocabile questo può provocare appunto dei problemi in tema di fattibilità per quanto posso però osservare a me pare che se partiamo dal ragionamento che la razio delle disposizioni in tema di offerte concorrenti è quella che viene chiamata con termine aulico la massimizzazione della recovery che in altri termini vuol dire la migliore soddisfazione dei creditori non capisco bene perché questa regola vada applicata nel caso in cui l'offerta sia irrevocabile e invece non possa applicarsi se l'offerta invece è revocabile perché nel codice della crisi dell'insolvenza della crisi della crisi dell'insolvenza e in questo la limitazione la sola ipotesi dell'offerta irrevocabile secondo me è in contrasto con il principio che anche se l'offerta è semplicemente irrevocabile debba comunque farsi una gara perché non è detto che siccome l'offerta è irrevocabile alla fine quell'offerta non possa trovare comunque accettazione essendo appunto inserita nel piano e se la si sottrae alla procedura delle offerte concorrenti questo secondo me è potenzialmente pregiudizievole per gli interessi dei creditori non è cambiato nell'articolo 96 l'ambito di applicazione in quanto si parla di offerta da parte di un soggetto già determinato che ha per oggetto il trasferimento la cessione di beni dell'azienda oppure il contratto d'affitto oppure il contratto che ha la finalità del trasferimento anche non immediato di beni allora il trasferimento che può avvenire sia a titolo oneroso che no e allora mi domando qual è se possiamo sintetizzare quello che sarà che è attualmente che sarà anche l'ambito di applicazione dell'articolo 96 ma allora di nuovo credo che per una corretta lettura della disposizione attuale così come la disposizione che entrerà in vigore se entrerà in vigore dobbiamo fare riferimento a quella che appunto è la razio della disposizione la razio della disposizione è impedire che beni siano alienati escano dal patrimonio del debitore a condizioni che non siano quelle ottimali se questa è la razio evidentemente non ha senso limitare limitare l'applicazione ai contratti di vendita oppure per altro verso limitarla nel caso dell'affitto alla sua ipotesi del contratto dell'affitto perché facciamo l'esempio più banale se anziché la vendita fosse una permuta fermo restando il problema poi della comparabilità la questione è la stessa se il bene esce a un prezzo incongruo e il bene è ugualmente e questo reca un danno ai creditori lo stesso accade se il bene è permutato con un bene che vale poco quindi secondo me quale che sia la forma negoziale impiegata qualsiasi negozio il quale porti all'uscita di beni dal patrimonio del debitore fermo restando che questo e qui però vorrei fare una precisazione importante non vale per gli atti di ordinaria di amministrazione e si dice che quindi per esempio giustamente ricordava quella sentenza del tribunale di Livorno che ha autorizzato l'esecuzione di contratti preliminari che riguardavano appunto contratti stipulati anteriormente ecco quello è un caso secondo me importante perché è vero che il ragionamento il principio è affermato con riferimento ad atti e contratti di ordinaria amministrazione ma quel caso riguardava dei contratti preliminari di vendita di immobili ad uso abitativo per la verità stipulati da una società vente per oggetto attività immobiliare e nella stessa decisione si fa riferimento a un precedente di un tribunale di Udine che aveva ragionato diversamente dicendo che peraltro in quel caso l'acquirente era sostanzialmente lo stesso soggetto che aveva venduto cioè era lo stesso gruppo lo stesso soggetto economico è vero che in questo caso è probabilmente un atto di ordinare amministrazione ma mi chiedo se effettivamente consentire l'esecuzione di contratti preliminari di vendita di immobili possa essere sottratto alla disposizione dell'articolo 163 bis perché in effetti in questo modo si aggira la norma e non vedo la grande differenza rispetto alla previsione della vendita a un soggetto già individuato non in forza di un contratto preliminare ma in forza di un'offerta pervenuta successivamente rimane anche nell'attuale cioè rimane il problema che c'è nell'attuale disciplina quello di assicurare la comparabilità tra le offerte che è un problema pratico non indifferente e chi appunto fa questa si occupa di questa materia tribunale ha verificato proprio sul campo quanto qualche volta questo sia difficile fortunatamente questa fatica la faremo soltanto cioè questa fatica è prevista nel codice della crisi soltanto nell'ipotesi in cui l'offerta una volta pubblicizzata abbia prodotto delle manifestazioni di interesse ma come si fa a garantire questa comparabilità si può stravolgere ecco siccome il piano e la proposta si fondano proprio su questa offerta che ha certe caratteristiche incidere su questa offerta significherebbe anche modificare il piano e la proposta che limiti ha dei limiti il tribunale in questa attività beh allora questo è uno dei punti più complicati perché insomma sostanzialmente il principio dovrebbe essere abbastanza chiaro il tribunale non può sovrapporsi alla volontà negoziale del debitore e dei creditori nel momento in cui nel piano è prevista una certa operazione quindi un certo trasferimento andare a dire che il tribunale interviene e come dire conforma alla sua volontà quella delle parti è contrario a uno dei principi che mi pare basilari detto questo peraltro si possono fare delle ulteriori considerazioni cioè allora innanzitutto se le caratteristiche e le connotazioni dell'offerta sono tali che in realtà le peculiarità sono irrilevanti o per meglio dire sono disegnate a scopo elusivo quindi per esempio l'offerta di vendita di un bene che insomma deve essere fatta a favore di soggetti che abbiano caratteristiche particolari senza che queste caratteristiche per forza abbiano una giustificazione plausibile allora in questo caso e qui faccio un ragionamento che ricordo insomma risale antiche dottrine fra l'altro in materia di diritto del lavoro e di licenziamenti illegittimi il ragionamento che può essere fatto è questo la regola generale è che anche agli atti unilaterali a norma dell'articolo 1324 si applicano le disposizioni in tema di contratti una delle norme circa la nullità dei contratti è il 1345 se le parti si sono determinate a concludere un contratto per un motivo illecito comune a entrambe allora in questo caso il contratto è nullo l'offerta che sia stata fatta con caratteristiche che abbiano come scopo quello di eludere la procedura competitiva o di renderla praticamente inattuabile è un atto unilaterale che comunque può essere considerato nullo e in quanto nullo il tribunale può anche dire che concordato la proposta concordataria è inammissibile se si basa fondamentalmente su questo oppure seconda soluzione può sfrondare delle caratteristiche che non sono ammissibili e consentire visto che il tribunale può conformare può individuare le caratteristiche della gara in determinati modi da consentire la comparabilità detto questo non sempre purtroppo la comparabilità sarà possibile quindi torniamo ad esempio al caso che so in cui la vendita prevede in cui l'allinazione si attua attraverso una permuta anziché una vendita ecco qui per la comparabilità si dovrà transitare attraverso una stima quindi si potrà stimare quello che è offerto in permuta per esempio partecipazioni a fronte di altre partecipazioni ed ecco che allora la gara può prevedere che quanto offerto debba avere caratteristiche equivalenti in questo caso è possibile assicurare però non sempre penso possa essere assicurato e credo che le difficoltà anche pratiche di queste procedure lo dimostrino ecco cosa si può dire sui i compiti che ha il commissario giudiziale che ha una funzione molto delicata che è quella di fornire le informazioni informazioni che potranno essere particolarmente pregnanti per esempio nell'ipotesi in cui l'oggetto del trasferimento sia un'azienda qui le notizie i dati rilevanti sono moltissimi e quindi il commissario giudiziario si trova a svolgere una funzione particolarmente delicata anche dal punto di vista del fatto che spesso si tratta di dati che devono rimanere riservati perché questo potrebbe essere di grave pregiudizio all'imprenditore questo è un tema che per quanto mi risulta per ciò che riguarda la procedura di concordato preventivo è relativamente nuovo però non è un tema che è ignoto ai professionisti che si occupano di procedure concorsuali perché basta pensare a tutte le esperienze in tema di concordato fallimentare e alle procedure di data room di costituzione cosiddetta delle data room nei concordati fallimentari e nelle amministrazioni straordinarie qui l'indicazione che può essere utile anche per gli operatori è che se si cerca anche sulla rete si trovano diversi siti dove sono pubblicati tutta una serie di caratteristiche per queste indagini e quindi per assicurare innanzitutto si possono prevedere modalità particolari per le informative sui dati e cioè mi spiego evidentemente nel momento in cui si debba pubblicizzare una gara relativa alla vendita di un'azienda non si può pensare che si possano tenere segreti i dati relativi a quello che è il fatturato a quelli che sono anche gli ambiti di vendita alla clientela e cose di questo genere però per esempio si può prevedere che questi dati vengano comunicati intanto in forma anonima quindi togliendo alcuni dati particolarmente delicati oppure ci sono anche particolari modalità che consentono la visione di dati senza che questi dati possano essere copiati o stampati questo è diffuso poi la condizione sine qua non per tutte queste indagini è far firmare delle dichiarazioni degli impegni di riservatezza nei confronti di coloro che sono interessati a partecipare alla gara per far sì che essi a loro volta non propaghino le informazioni e comunque le tengono assolutamente riservate quindi ripeto questa è l'esperienza delle procedure ripeto di amministrazione straordinaria e concordati fallimentari sono preziosi in questo senso allora attualmente se l'offerente originario non si conforma al decreto la sua offerta non è inefficace ma non diventa irrevocabile quindi chiederei di esaminare che cosa succede se l'offerente originario non si conforma al decreto sia nell'ipotesi in cui non ci siano altre una volta aperta la procedura competitiva ovviamente non si conforma al decreto sia nell'ipotesi in cui ci siano altre offerte sia nell'ipotesi in cui non ce ne siano e cosa succede invece se si sconforma sia nell'ipotesi in cui vi siano altre offerte ma anche nell'ipotesi in cui non ce ne sia nessuna perché in questo caso potrebbe, in cui in sostanza emerge che non c'era un interesse sul mercato, forse il fatto che il concordato prosegua secondo un'offerta che l'offerente è stato costretto a modificare forse una coartazione della volontà privata, negoziale, che è forse eccessiva. Però la disciplina dell'articolo 96 su questo punto contiene alcune precisazioni, alcune modifiche che forse risolvono questi problemi, partendo appunto dalla questione dell'irrevocabilità dell'offerta. Dunque, allora, stiamo alla disciplina attuale. Su questa questione specifica abbiamo un prezioso precedente del Tribunale di Siracusa, 5 giugno 2017. Questo è un precedente praticamente interessante perché è assunto in sede di reclamo avverso un provvedimento in un caso in cui, disposta la gara per offerte concorrenti, non era stata avanzata alcuna offerta. E il giudice in primo grado aveva, il giudice delegato aveva dichiarato priva di efficacia, insomma aveva considerato a questo punto invalida, l'offerta che era stata presentata, che era un'offerta revocabile. Quindi aveva detto, siccome nessuno ha partecipato alla gara, l'offerta che è già stata presentata... L'offerta originaria si deve ritenere decaduta e quindi priva di effetto. Viene fatto reclamo e il Tribunale dice, ma perché? E fa un ragionamento di questo tipo. Se evidentemente nessuno ha inteso partecipare alla gara, vuol dire che alla fine l'offerta originaria era quella più conveniente per i creditori. Non capiamo perché debba essere cestinata e quindi la procedura può proseguire con l'offerta originaria. Questa appunto è l'ipotesi in cui non siano presentate offerte, ma supponiamo invece che non siano presentate offerte e attenzione l'originario offerente non si sia conformato, perché era questo il punto, l'originario offerente non si sia conformato alle condizioni instabilite dal bando che il Tribunale ha risposto. Le altre ipotesi sono che non si sia conformato e ci siano altre offerte, il problema ovviamente non si pone, ma se si sia conformato e non ci siano altre offerte, a me pare che in questo caso se si è conformato al bando questo rientra nella sua libertà negoziale, nessuno lo obbligava e evidentemente nel momento in cui si è adeguato è anche giusto che abbia le conseguenze derivanti dalla sua perfetta libertà negoziale. Per ciò che riguarda invece le modifiche dell'articolo 96, ci sono dei riferimenti, le comma 10 dell'articolo 96 dice che il debitore modifica la proposta e il piano in conformità all'esito della gara, questo è poi il principio, ah sì, l'articolo 11, il comma 11, chiedo scusa, nel caso in cui in detta la gara non vengono presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta è indicata il primo comma. Questo mi pare che debba leggersi nel senso contrario a quella che è l'interpretazione che ho dato, e cioè che allora in questo caso anche se si sia conformato resta ferma l'offerta originaria. Va bene, abbiamo appena detto che il debitore deve modificare la proposta in conformità all'esito della gara e se non lo fa che cosa succede, che cosa si può fare? E ancora, se invece di modificarla la vuole revocare, può farlo? E se il debitore modifica la proposta? Allora no, la domanda forse non mi sono esercita bene. Allora no, adesso siamo nella parte in cui la norma sia la vecchia, no, non vecchia perché sto anticipando i tempi, che sia l'attuale che quella dell'articolo 96 prevede che il debitore deve modificare la proposta, il piano, secondo l'esito della gara. Quindi quali sono i rimedi nel caso in cui non faccia questa modifica? E poi, seconda domanda, se il debitore invece che modificare, per risolvere il problema non gli va di modificarla, allora la revoca e se possa revocarla e fino a che punto? Per quanto riguarda la prima domanda, a me pare che la soluzione debba transitare attraverso un'applicazione in via analogica di quelle disposizioni che sono previste in tema di esecuzione del concordato, dove si dice che se poi in sede esecutiva il debitore non si adegua a quella che è la proposta, il piano come uscito alla fine dell'omologazione, il Tribunale ha precisi poteri per revocare l'organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario. Stiamo parlando dell'attuale o del codice della crisi? No, no, stiamo parlando dell'articolo 185. Quindi dell'attuale? Sì, quello dell'attuale. Ecco, invece, tornando al nostro caso, tornando invece anche per ciò che riguarda appunto la De Jure Condendo, l'articolo 96 dice semplicemente che il debitore modifica la proposta del piano in conformità all'esito della gara, non specifica cosa si possa fare diversamente. Ma direi, si potrebbe applicare l'articolo 173, si potrebbe ritenere che a questo punto la proposta, non vi siano più le condizioni di ammissibilità in quanto non si è conformata all'esito della gara. Questa è una soluzione assolutamente condivisibile. E può revocarla? Può revocarla. Ma allora, questa è una questione che è sempre stata abbastanza dibattuta con tesi contrastanti, una decisione recente, abbastanza recente, del 2015, la numero della Cassazione 8.575 del 2015, che esamina per la verità un caso abbastanza particolare perché la vicenda era questa. il debitore all'esito della procedura concordataria subisce la dichiarazione di fallimento e cioè il concordato non viene omologato essendo istanze di fallimento viene dichiarato il fallimento. Propone reclamo e la Corte d'Appello accoglie il reclamo. Accoglie il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e omologa il concordato preventivo. avverso questa decisione viene proposto il ricorso per Cassazione e nel corso del ricorso per Cassazione il debitore, dicendo che non vi sono più le condizioni per dare esecuzione al concordato, dichiara di voler rinunziare al concordato. Qui la Cassazione dice no, è troppo tardi, nel senso che a questo punto il concordato è stato omologato, tu non puoi rinunciare la sentenza di appello perché la sentenza di appello si sovrappone alla sentenza di primo grado e omologato il concordato non si può più fare nulla. Allora, questo interessa perché nella stessa sentenza si dice poi a un certo punto qualcosa che rileva anche per rispondere al quesito che è stato posto, anche a voler valorizzare alla natura contrattuale del concordato, attribuendo al provvedimento di omologazione e alla portata di mera convaida dell'accordo intervenuto, il momento della conclusione di tale accordo dovrebbe pur sempre essere individuato in quello dell'approvazione dei creditori, alla quale dovrebbe dunque ricollegarsi l'effetto di precludere la revoca della proposta del debitore essenzio dell'articolo 1328 Codice Civile. Allora, se riteniamo, ma lo ritiene anche la Cassazione che parla in più occasioni di contratto di concordato e fermo restando che il concordato è anche un'altra cosa per carità, ma se riteniamo che il concordato sia anche un contratto e che sia un contratto che si sostanzia nella proposta che viene fatta ai creditori e i quali essi approvano poi, una volta che interviene l'approvazione della proposta fermo restando che l'umogazione serve per l'estensione a tutti i creditori dell'accordo raggiunto, ma a quel punto, a mio avviso, il debitore non può più revocare la proposta. Però, fino a che non interviene l'approvazione, si può ritenere che possa farlo, perché questo mi pare che sia un principio, anche dal punto di vista processuale, che può essere giustificato alla luce del principio per cui chi propone la domanda può sempre rinunziare agli atti fino a che non vi sia costituzione dell'altra parte e qui, fino a che non inizia il giudizio di omologazione in senso vero e proprio, sicuramente non c'è costituzione, ma nemmeno la possibilità di configurare la possibilità di costituzione delle altre parti. Allora, stiamo arrivando alla fine della fase sulle offerte concorrenti, problema che si pone attualmente e che si porrà anche nell'articolo 96 è la sorte dell'offerta originaria e delle offerte concorrenti nel caso di mancata omologazione. Questo tenuto conto anche del fatto che mentre la gara si deve concludere prima delle votazioni e mi pare nella disciplina del codice della crisi entro ancora totti giorni prima, non mi ricordo quanti, della dunanza e invece la vendita e l'aggiudicazione anche qui l'aggiudicazione forse utilizzato in termine proprio può avvenire dopo l'omologazione. Quindi è possibile che ci sia stata l'aggiudicazione cioè sia stata la procedura competitiva si sia individuato l'offerente che dovrà sostenere l'offerta del piano e però non si omologa il concordato e questo è un problema che si verifica anche in modo ancora più evidente nel caso di contratti che hanno la finalità del trasferimento non immediato di beni. qui addirittura c'è un contratto c'è una sostituzione dell'originario contraente con l'aggiudicatario e allora qual è la sorte di tutti questi contratti in caso di mancata omologazione che fine fanno eventuale caparre versate c'è un conflitto tra il contraente precedente e l'aggiudicatario che risolve il conflitto il giudice ordinario o il giudice delegato. Sì allora non si tratta di temi semplici anche perché non mi costano precedenti specifici cerchiamo quindi di ragionare sulla base dei principi generali premesso che per quanto mi consta nella prassi poi queste offerte e quindi anche i contratti sono spesso accompagnati da condizioni e in particolare dalla condizione dell'omologazione del concordato anzi di regola questo vale senz'altro per l'offerta originaria ricordiamoci che le offerte concorrenti non possono essere sottoposte a condizione dice la norma sì perfettamente questo lei ha perfettamente ragione però a me pare di poter ragionare in questo senso siccome pacificamente ricomprese nell'alveo della procedura concordataria le offerte anche successive le quali appunto abbiano particolari condizioni previste nel bando devono ritenersi accompagnate dalla presupposizione se non dalla condizione dalla presupposizione dell'omologazione del concordato perché non riesco a pensare a questa cosa che colore il quale si sia reso aggiudicatario nella gara possa pretendere l'adempimento prima a meno che non sia uno dei casi di urgenza nel qual caso evidentemente dovrà essere appositamente autorizzato e se autorizzato e se l'effetto traslativo si sia già verificato a quel punto il problema non si pone perché gli atti legalmente compiuti in corso di procedura restano salvi ma se ancora appunto l'effetto traslativo non si sarà verificato si deve ritenere che anche quella offerta sia soggetta ripeto se non alla condizione alla presupposizione alla condizione tacita dell'omologazione quindi non intervenendo l'omologazione a mio avviso cadono anche le offerte non derivano più obblighi di sorta cosa accade per gli acconti versati le obbligazioni contratte beh viva Dio in questo caso a me pare che sia difficile contestare che si rientri nell'ipotesi dell'articolo 111 bis cioè delle obbligazioni contratte in funzione o in occasione secondo me tutte e due sia in funzione sia in occasione di una procedura concorsuale prevista dalla legge quindi questi acconti hanno natura prededucibile poi come si risolve il conflitto fra l'aggiudicatario definitivo diciamolo e l'offerente originario chi lo deve risolvere il giudice delegato il giudice ordinario a me pare che uno dei principi fondamentali è che se non vi è un'espressa norma che stabilisce una competenza specifica del giudice delegato del tribunale fallimentare si applicano le disposizioni generali quindi per esempio questioni in ordine alla sussistenza o meno di un credito nell'ambito della procedura concordataria chi deve decidere se un credito effettivamente può essere fatto valere sia privilegiato non sia privilegiato non è qualcosa che rientra nella competenza del giudice delegato nel tribunale della procedura concordataria la competenza del giudice ordinario quindi io sarei per la competenza del giudice ordinario va bene facciamo un cenno al concordato in bianco alla modifica dell'attuale riferimento del 163 bis agli atti da autorizzare senza dell'articolo 161 settimo comma e invece la formulazione un po' diversa dell'articolo 96 che richiama in genere l'articolo 48 sull'accesso alle procedure negoziali e poi un accenno anche all'affitto sia prima che dopo la domanda non so se c'è tanto tempo perché bisogna parlare anche dell'atto destinato di destinazione ho perso un po' il conto ma insomma facciamo 5-8 minuti ok allora con riferimento al concordato in bianco 163 bis ultimo comma mantiene ferma la disciplina prevista dalla norma con riferimento appunto alle offerte concorrenti anche con riferimento agli atti da autorizzare senza il 161 settimo comma quindi atti da autorizzare dal tribunale in pendenza del termine concesso a chi abbia fatto domanda di concordato con riserva la questione essenzialmente è che se ho talmente tanta fretta di dover stipulare un atto prima di venire addirittura al decreto di ammissione allora è evidente che io un offerente in realtà l'ho già individuato per questo in realtà mi pare che soltanto il 163 bis faccia riferimento al 161 settimo comma vero è che nell'ipotesi in cui non ci sia un contraente già individuato o comunque ci sia un atto di straordinaria amministrazione da autorizzare l'applicabilità comunque delle discipline in materia di competitività penso si possa recuperare dal 182 quinto comma che appunto estende la norma a tutti gli atti da compiere dopo la presentazione della domanda domanda in termini abbastanza generico a mio avviso da poter essere esteso anche al ricorso per concordato in bianco questo sistema è modificato dal scusatemi un'unica questione che si che si può porre se nel momento in cui applichiamo il 163b se possiamo ritenerlo integrato dalle norme sulla liquidazione fallimentare a mio avviso per quanto non espressamente richiamate a mio avviso si è di fatto la giurisprudenza così fa e anticipo il tema sull'affitto di azienda quando ritiene che l'affittuario non risponda a dei debiti della procedura e quindi dei debiti del concedente che è disposizione prevista nell'articolo 105 il 105 richiamato dal 182 quinto comma non è richiamato dal 163b ma nessuno discute sul fatto che questa limitazione operi quello che pone invece problemi è il fatto che l'articolo 182 quinto comma come dicevo prima non richiama il 104b se quindi la limitazione di responsabilità in favore della procedura per i debiti sorti nel corso dell'affitto con deroga 2.112 e 2.556 che parte della giurisprudenza cerca di recuperare mediante un'integrazione del decreto di omologa che però se scudiamo un potere conformativo del tribunale facciamo anche fatica ad introdurre detto questo il problema non si porrebbe nel codice della crisi e dell'insolvenza perché l'articolo 96 in questo senso è fortemente innovativo allora l'articolo 96 all'ultimo comma mantiene fermo l'applicazione della disciplina delle offerte concorrenti per il caso degli atti straordinari da autorizzare in pendenza del termine concesso essenzia dell'articolo 48 e quindi tra il decreto che concede il termine e il decreto di apertura non più il decreto di ammissione termine peraltro che è fortemente ridotto rispetto a quello attuale ho fatto un conto sono 90 massimo 120 giorni se si beneficia del termine di 30 giorni per chi abbia fatto accesso alle procedure di allerta quindi altrimenti il termine massimo è 90 giorni quello che innova in realtà rispetto al sistema è l'articolo 99 perché l'articolo 99 si occupa del potere autorizzatorio degli atti di straordinaria amministrazione da parte del giudice delegato una volta depositati la proposta e il piano ma prevede poi e dice e dice anche rispetto a questa fase una cosa che a me pare importante e cioè obbligo di pubblicità e obbligo di preventiva stima come il 221 anche nella fase precedente conformando a me pare sotto questo profilo la volontà dell'autonomia negoziale del debitore pur prima dell'approvazione addirittura prima del deposito della proposta ma è significativo perché prevede la possibilità di derogare alla pubblicità e alla alla competizione salvo l'inciso finale salvo adeguata pubblicità ma in questo caso la competenza non è più del giudice delegato nella fase successiva all'apertura ma è del tribunale così come è del tribunale nell'ambito del concordato in bianco ora siccome l'articolo 99 si riferisce agli atti successivi alla domanda ma richiama l'articolo 48 io riterrei che questa norma si applica appunto anche in pendenza del deposito della proposta e del piano e prevede appunto tale possibilità di derogare alla pubblicità e alla competitività lo prevede però a fronte di una serie di condizioni la prima condizione che è generalizzata rispetto agli atti di straordinaria amministrazione da compiere nella fase anteomologa è che quell'atto sia urgente al punto da non poter essere differito alla fase successiva quella che era una regola pratica dei tribunali nell'interpretare appunto la concessione dell'autorizzazione al compiemento dell'atto urgente specie in una fase in cui non c'è la disclosure del piano e quindi non sappiamo ancora se quell'atto risponderà a quello che è l'obiettivo perseguito dall'imprenditore e dai creditori diventa una regola espressa l'articolo questo è il 99 quarto comma il 99 sesto comma poi dice è possibile addirittura derogare alla competitività quando l'urgenza è tale che eventuali ritardi e quindi rispetto delle procedure competitive possa arrecare pregiudizio al miglior soddisfacimento dei creditori è una posizione questa che recepisce espressamente un'indicazione giurisprudenziale in questi sensi nella vigenza della disciplina attuale si era espresso il tribunale di Roma con un provvedimento del 3 agosto del 2017 nel quale appunto si era posto il problema di vendita di un ramo di azienda ad un soggetto determinato perché l'impresa in concordato aveva bisogno di recepire immediata di acquisire immediata liquidità per consentire il mantenimento in funzione di altri punti vendita quindi si vendevano 10 su 200 punti vendita gli altri 190 avevano bisogno di liquidità quei 10 valevano 8 milioni e mezzo di euro e quindi si diceva io ce l'ho già il contraente ho già sondato il mercato ho già valutato che l'offerta è congrua ho fretta i soldi mi servono subito autorizzami tribunale e il tribunale dice sì effettivamente l'urgenza c'è l'atto si deve fare la necessità della liquidità c'è ma ho bisogno della preventiva stima e di una procedura competitiva semplificata quindi il tribunale in presenza della disciplina attuale si è sentito vincolato alla competitività e alla previa stima il pro futuro il codice della crisi e dell'insolvenza prevede addirittura la possibilità di una deroga tutto sempre funzionale al miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori bene e quindi abbiamo finito anche la seconda parte l'ultima è breve perché è un solo argomento ed è l'atto di destinazione dell'articolo 2645 ter e la possibilità di utilizzarlo proprio in vista della necessità di prevedere l'apporto di finanza esterna sì dunque argomento molto interessante sto seguendo fra l'altro un caso che è emblematico del dibattito su questo istituto il caso è questo sarà una proposta di concordato di una SRL siamo al Tribunale di Mantova e questa è accompagnata da il piano si basa fondamentalmente oltre che sulla dismissione dei cespiti che costituiscono il patrimonio della SRL di un negozio di destinazione ex articolo 2645 ter che riguarda il patrimonio personale dell'amministratore e socio di maggioranza della società il quale a sua volta era obbligato per fideiussioni che erano state rilasciate a favore di taloni creditori di banche ma differentemente rispetto al caso che aveva segnalato del socio illimitatamente responsabile era una fattispecie astrattera no 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 questa appunto non è una società di persona è una società di capitale quindi di per sé si trattava di beni che comunque non sarebbero stati acquisiti comunque non direttamente forse a custodio di un'azione di responsabilità e così via insomma e il Tribunale di Mantova in sede di procedimento ex articolo 162 richiesti chiarimenti alla fine dichiara inammissibile la proposta concordataria dicendo che la proposta è difetta della fattibilità giuridica sulla base del ragionamento che l'atto di destinazione contenendo la promessa unilaterale di mettere a disposizione il bene ex articolo è un atto unilaterale ex articolo 1987 al di fuori dei casi in cui espressamente è vincolante la promessa e quindi non esiste un obbligo del terzo che pure ha nel piano inserito questa previsione e in sostanza dichiara inammissibile la proposta concordataria dichiara il fallimento fra l'altro con conseguenze anche per il ceto creditorio perché quanto apportato non era di poco rilievo il fallimento in sé non acquisisce uguale capacità patrimoniale il consulente che aveva fatto la domanda in questo modo chiede di essere ammesso al passivo e viene escluso dicendo che inadempienta gli obblighi perché ha curato una domanda che è assolutamente inammissibile allora questo per dire ci sono precedenti misti ci sono precedenti c'è un tribunale di Prato che dice che è assolutamente ammissibile c'è un tribunale di Lecco che dice ammissibile tra l'altro lo stesso avvocato non il consulente ma lo stesso avvocato che aveva fatto la domanda a Mantua fa una domanda uguale con un atto di destinazione al tribunale di Brescia il tribunale di Brescia la dichiara ammissibile e omologa il concordato e quindi la situazione a mio avviso è variegata fosse il caso di informarsi prima se al tribunale piace l'articolo 2645 ter a mio avviso piuttosto che niente meglio un articolo 2645 ter questo fosse ragionamento detto questo poi la seconda parte del problema molto serio è ma per ciò che riguarda invece i creditori personali di colui il quale costituisce compie l'atto di destinazione questi possono reagire e la risposta è indubitabilmente sì non possono essere espropriati dei loro diritti per il fatto che i beni vengano destinati per il buon fine del concordato questo fra l'altro secondo me forse è anche il punto più delicato nei procedimenti in cui si adoperi questo strumento perché qui effettivamente non era fra l'altro questo il profilo evidenziato da Mantua che lo affermava in termini generali ma se consideriamo la possibilità che va ovviamente vagliata in concreto quindi bisogna vedere se chi ha costituito l'atto di destinazione ha o meno debitori ma se consideriamo il profilo che l'atto di destinazione possa essere impugnato con un'azione revocatoria ordinaria da parte dei creditori personali di colui il quale abbia conferito i beni e qui vediamo che si pone un problema di fattibilità giuridica della proposta concordataria perché se questa si basa appunto sull'atto di destinazione e vi è il fondato effettivo e non astratto pericolo che possa essere impugnato cade accade proprio non per una questione di fattibilità economica ma proprio per una fattibilità giuridica anche lo stesso concordato per meglio dire ci possono essere dubbi molto seri sulla sua fattibilità ecco a questo proposito farei un attimo una domanda visto che l'articolo 169 richiama l'articolo 45 della legge fallimentare attraverso lo strumento della trascrizione e anche in vista della nuova formulazione del 2929 bis come si regola questo conflitto si può in qualche modo porre in salvo il piano di concordato oppure c'è un problema come diceva lei di infattibilità giuridica secondo me c'è un problema di infattibilità giuridica perché considerato fra l'altro la possibilità che i beni siano assoggettati ad esecuzione forzata entro l'anno nel momento in cui si verificasse queste ipotesi allora in questo caso evidentemente il piano concordatario che si basi anche ma inevitabilmente anche su questo evidentemente ha un serio problema di fattibilità questo è un problema che riguarda anche l'attestatore che non può non porsi il problema quindi a mio avviso torno al punto essenziale se chi compie l'atto e poi trascrive l'atto di destinazione in realtà non ha debiti in realtà non ha debiti perché non li ha e allora in questo caso francamente io non vedo perché non si possa consentire un piano che prevede questo anche perché il ragionamento è ma chi poi può pretendere perché questo è un ragionamento fatto dal Tribunale di Mato ma chi può pretendere che chi ha costituito l'atto di destinazione metta effettivamente a disposizione i beni a favore insomma qui e questo era un classico caso in cui doveva essere nominato il liquidatore giudiziale se il liquidatore giudiziale ha il potere di esercitare tutti i diritti che sono funzionali alla salvaguardia del patrimonio e quindi alla liquidazione evidentemente il liquidatore giudiziale può evidentemente chiedere che venga messo a disposizione i beni o il ricavato della renta dei beni di cui è l'atto di destinazione bene io a questo punto direi che abbiamo trattato tutti gli argomenti e ci dobbiamo fermare questa è la applausi grazie